Ehi, hai sentito che a breve i ragazzi del quinto anno dovranno andare a votare? Io, al posto loro, non saprei proprio cosa fare! Nemmeno io! Come si sceglie? In base all'età, all'esperienza o al numero di likes? O dal numero di followers su Instagram? Juvenes, non preoccupatevi! Ho io la soluzione! O meglio, la soluzione sono io! Marcus Tullius Cicero, per gli amici Cicerone, Virbonus, Vicendi Peritus e infallibile avvocato! Ma tu sei troppo vecchio! Historia magistra vite, Juvenes! E io, dall'alto della mia esperienza politica, ho molto da insegnarvi in materia! La posizione delle prime orazioni, arrivò a comporne 100, ma noi ne leggiamo solo 58. Esse riflettono lo stretto legame tra l'arte della ritorica e l'impegno politico, in particolare le orazioni contro Verre e Catilina. Siamo alla ricerca del nostro uomo politico ideale con l'aiuto di Marcus Tullius Cicero. Per Cicerone, se ancora non l'avete capito, costui anche e soprattutto un maestro nell'arte della parola. Nel primo libro del Dioratore, la nostra guida approfondisce questo aspetto. Salve te, Romes! Il topic del nostro debate è la funzione sociale dell'oratorio. Su la questione si confronteranno due grandi oratori del passato. Alla mia destra, Lucio Vicino Crasso. Alla mia sinistra, Quinto Muzio Escegola. Chi dei due ha ragione? A chi dei due va la parma del vincitore? Voi, pubblico di Youtube, cosa ne pensate? A Fidelis se la guida dello Stato ha un delbonus di centi peritus o semplicemente a un uomo saggio? Vallei rompeste la parma di ora!